Ciao ragazzi, io sono Marco per gli amici Il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della Fisica che non ti aspetti. Altra puntata insieme a quella sulla Materia Oscura, che se non l'avete visto vi lascio qui nelle schede, realizzata anche grazie al contributo di Sandro del canale Quantizzando.it. Lo trovate su Facebook, su Instagram, su YouTube e naturalmente sul suo blog, Quantizzando.it. Quando Einstein ha formulato la sua Teoria della Relatività Generale aveva un problemino e ha dovuto fare una cosa che non avrebbe voluto fare, ma ci torniamo tra un momento. Ma facciamo un salto avanti di qualche anno. Tra il 1923 e il 1924, Edwin Hubble fece una scoperta che noi oggi diamo praticamente per scontata, ma che all'epoca non lo era affatto. Utilizzando quello che all'epoca era il telescopio più potente a disposizione, Hubble scoprì che le nebulose, che provvediamo nel nostro cielo notturno, non sono affatto dei piccoli ammassi globulari presenti all'interno della nostra galassia. Sono in realtà, a loro volta, ammassi di stelle. Sono altre galassie che si trovano molto, molto, molto più lontano di qualunque stella noi possiamo vedere. In poche parole, Hubble scoprì che l'universo è un pelino più grande di quello che immaginavano in quel tempo. L'universo non si esauriva con la Via Lattea. Più o meno negli stessi anni, Vestu Slyther fece un'altra scoperta veramente importante. Scoprì che queste nebulose, a questo punto possiamo dire che queste galassie, si allontanano tutte da noi. E questo era incredibilmente strano. Come mai queste galassie si allontanano da noi? O meglio, si allontanano tra di loro? Perché non siamo noi il centro di tutto. Non siamo noi ad avere mangiato pesante ieri sera e ad avere l'alito cattivo. Un qualunque osservatore, da una qualunque di queste galassie, osserverebbe la medesima cosa. Tutte le galassie si allontanano tra di loro. Ma quindi? Quindi l'universo non è stazionario, come si pensava all'epoca. E questo fece tirare un grande sospiro di sollievo ad Einstein. Ma voglio lasciarvi ancora un attimo con la suspense. Prima voglio spiegarvi come ha fatto Slyther a capire che le altre galassie si allontanano. Beh, conoscete l'effetto Doppler? Sì, lo conoscete, tranquilli. È quell'effetto per cui, quando una sorgente sonora, non so, il motore di un'auto, la sirena di un'ambulanza, si avvicina a noi, il rumore che emette ci appare avere un tono più alto rispetto a quello effettivo, come se avesse una lunghezza d'onda accorciata. Quando invece la sorgente si allontana da noi, succede il contrario. Il suono appare avere un tono più basso, o una lunghezza d'onda maggiore, se preferite. Esiste anche la versione elettromagnetica di questo effetto. Vale a dire che, se una sorgente luminosa si avvicina a noi, la luce che essa emette avrà una lunghezza d'onda percepita più corta, mentre invece, se si allontana, una lunghezza d'onda maggiore. Se consideriamo lo spettro elettromagnetico, la luce di una sorgente che si avvicina a noi tenderà a spostarsi verso il colore blu, che è quello con la lunghezza d'onda più corta che noi possiamo vedere, mentre viceversa, una sorgente che si allontana avrà una luce che si sposta verso il rosso, che è il colore con la lunghezza d'onda maggiore. Per questo motivo si parla rispettivamente di blue shift e red shift, spostamento verso il blu e verso il rosso. E si parla di spostamento verso il rosso, ad esempio, anche quando l'effetto è così intenso da avere fatto finire la radiazione ben oltre il rosso, ben oltre l'infrarosso, magari addirittura nelle microonde, come è il caso della radiazione cosmica di fondo. C'è da dire però che in questo caso specifico per le galassie lo spostamento verso il rosso è dovuto a un'altra cosa. Ma adesso ci arriviamo. L'ultimo tassello lo mise nel 1929 di nuovo Hubble che scoprì una legge di proporzionalità tra la distanza delle galassie e la velocità con cui queste si allontanano. Noi oggi chiamiamo quella legge legge di Hubble. Mettendo insieme tutti i pezzi si è arrivati a una conclusione abbastanza ovvia. Se le galassie si allontanano, l'universo ieri era un po' più piccolo di oggi e l'altro ieri era un po' più piccolo di ieri e se torniamo così a ritroso si scopre che 13,8 miliardi di anni fa, più o meno, l'universo occupava in realtà uno spazio estremamente minuto. Poi ha subito una violenta espansione, che noi oggi chiamiamo Big Bang, fino a diventare quello che è oggi. Di questa violenta espansione iniziale noi oggi vediamo solo l'inerzia, l'abbrivio che le galassie hanno preso e che le porta a allontanarsi tra di loro. Ma poi c'è anche la gravità che invece tende a farle ritornare insieme e quindi il modello del Big Bang porta con sé una domanda molto ovvia. Cosa succederà alla fine all'universo? Beh, gli scenari possibili sembrano essere soltanto due, perché in un caso, se la massa dell'universo è superiore a un certo valore di soglia, la gravità prima o poi riuscirà a fermare l'espansione e invertirla, portando l'universo a contrarsi su se stesso in quello che chiamiamo tipicamente Big Crunch. Viceversa, se la massa dell'universo fosse inferiore a questa soglia, la gravità non riuscirebbe mai a interrompere l'espansione. Se avrebbe un'espansione continua, l'universo continuerebbe a diluirsi, andando incontro a quella che, un po' cinicamente, viene chiamata morte entropica. Il problema è che misurare la massa dell'universo non è una cosa molto facile. Non abbiamo una bilancia su cui appoggiare l'intero universo. E poi c'è da tenere conto anche della materia oscura. Infatti, tutti i tentativi fatti per misurare la massa totale dell'universo hanno dato risultati molto altalenanti, poco poco affidabili. Ed è per questo che nel 1998, vale a dire 70 anni dopo le osservazioni di Slipher e di Hubble, Permutter, Schmitt e Ries tentarono un approccio completamente differente. Provarono a misurare la decelerazione dell'universo. Qual è il tasso di decelerazione dell'universo? Sapendo che è nato 13,8 miliardi di anni fa, vedendo a che velocità, o meglio, con che decelerazione sta rallentando, dovremo capire se ci stiamo dirigendo verso la morte entropica oppure, in un futuro più o meno prossimo, verso il Big Crunch. Ebbene, la loro scoperta è stata strabiliante. Soprattutto concentrandosi sulle galassie più vicine, quindi parliamo degli ultimi 4-5 miliardi di anni, la velocità di espansione dell'universo non solo non è diminuita, è addirittura aumentata. Ma come cavolo è possibile? Come è possibile? Beh, non è possibile se immaginiamo il Big Bang come un impulso originario, un impulso iniziale, e poi vi lasciamo tutto in mano alla gravità, che è una forza attrattiva. Quello che dovremmo vedere è una continua espansione e diluizione dell'energia e della materia dell'universo. Però, e se l'energia invece rimanesse costante? L'ipotesi che viene avanzata è quella dell'energia oscura, una energia che permea ogni punto dello spazio, anche là dove c'è il vuoto, da cui il soprannome energia del vuoto, e la cui densità rimane costante nel tempo. Ma l'universo si espande e quindi, per mantenere la propria densità costante, questa energia oscura deve in qualche modo essere la responsabile di questa espansione e deve allontanare lei le galassie, che però non sono sotto l'effetto di una forza. È un concetto un po' complicato da spiegare, ma forse ho l'esempio giusto. Immaginate un bel panettone che sta lievitando. Nella pasta del panettone ci sono le uvette e i canditi, perché sì, è il panettone le de Milan, è il gadavest dentro gli uvette e i canditi. Fatevene una ragione, voi con il vostro panettone mandorlato con le gocce di cioccolato. Durante la lievitazione, la distanza tra le uvette e i canditi tenderà ad aumentare. Ma perché? Perché c'è una forza che spinge le uvette a muoversi all'interno della pasta? Assolutamente no. Se andiamo a vedere qual è la velocità relativa di un candito rispetto alle molecole di pasta che lo circondano, troveremo che questa velocità è pari a zero. Uvette e i canditi si allontanano perché è la pasta ad espandersi, ad aumentare di volume. Ebbene, l'energia oscura è qualcosa di simile, è qualcosa che porta a una espansione dello spazio, ma con una importante differenza rispetto al panettone. Nel panettone la massa totale non cambia, quindi aumentando di volume la pasta perde densità, diventa meno densa. Nel caso dello spazio questo non accade, la densità di energia oscura continua a rimanere costante, il che significa che per espandere l'universo essa è costretta a creare nuovo spazio. Ah sì, e poi c'è da dire che galassie e canditi non hanno molto a che spartire tra di loro. Qui possiamo richiamare Einstein. Il concetto di energia oscura richiama molto quello di costante cosmologica che Einstein dovette introdurre come correzione alla teoria della relatività generale per venire incontro all'ipotesi di un universo stazionario, che era l'ipotesi in vigore ai tempi in cui Einstein sviluppò la relatività generale. Ad Einstein non è mai piaciuta la costante cosmologica, infatti la eliminò subito non appena si scoprì che l'universo in realtà si stava espandendo. Non ce n'era in realtà più bisogno in apparenza. Solo che poi la scoperta che l'espansione dell'universo non sta rallentando ma sta accelerando ci ha costretti a reintrodurre una cosa che assomiglia molto alla costante cosmologica di Einstein. Ma quanta è questa energia oscura? Beh, domanda interessante perché è tanta. Perché è circa il 68% di tutta l'energia dell'universo. Ma i fisici si domandano perché sia così relativamente poco di più di tutte le altre forme di energia. Messe insieme, materia barionica e materia oscura fanno il 32% dell'energia totale dell'universo. Quindi l'energia oscura è appena il doppio più o meno. E non sappiamo esattamente perché c'è questo particolare rapporto o se c'è un motivo per avere questo particolare rapporto. Di sicuro gli effetti dell'energia oscura sono stati molto altalenanti nella storia dell'universo. Si ritiene infatti che un lasso di tempo brevissimo dopo il Big Bang, vale a dire 10 alla meno 34 secondi dopo il Big Bang, per un lasso di tempo brevissimo, 10 alla meno 36 secondi, l'universo si sia espanso rapidissimamente a causa dell'energia oscura che in quel lasso di tempo ha esercitato un'influenza molto, molto grande. Questa è la cosiddetta inflazione dell'universo e secondo Alan Goode, che la teorizzò nel 1979, cioè 20 anni prima delle osservazioni che portarono allo sviluppo dell'ipotesi della energia oscura, giustificherebbe il motivo per cui l'universo è così omogeneo, guardandolo in tutte le direzioni, e soprattutto perché lo spazio sia piatto, come ha recentemente raccontato Sandro in una delle sue storie su Instagram. Se non le avete viste, è perché non lo seguite e fate molto, molto male. Possiamo misurare l'energia oscura? Eh, sembra essere un'impresa molto difficile, più difficile ancora che la rilevazione della materia oscura. Innanzitutto, l'energia oscura è molto poco densa. La sua densità si stima essere di 10 alla meno 15 joule per centimetro cubo. Ma il problema principale è che si tratta di energia inutile. È energia con entropia altissima e quindi praticamente in grado di compiere nessun lavoro. Non riusciamo a cavarne niente. Quindi come facciamo a misurarla se non riusciamo nemmeno a costringerla a spostare un indicatore lungo una scala graduata? E infine, da dove viene fuori questa energia oscura? Anche in questo caso si brancola nel buio. E mi dispiace, una volta la dovevo fare sta battuta. Una volta. Beh, è l'unica volta. Non la farò mai più. Il video è quasi finito. Beh, chi tra di voi mastica un pochino di meccanica quantistica potrebbe aver avuto una piccola illuminazione. Anche questa è una battuta sull'energia oscura. Perdonatemi, mi vengono così. Il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che il vuoto in realtà non è affatto vuoto, ma è un continuo formarsi e distruggersi di coppie virtuali di particelle e antiparticelle. Che sia questa l'origine dell'energia oscura? La risposta a questa domanda è no, neanche per sbaglio. Infatti, se questa fosse l'origine dell'energia oscura, la sua densità sarebbe un filino più grande di quella prevista. non 10 alla meno 15 joule per centimetro cubo, ma 10 alla 105 joule per centimetro cubo. 120 ordini di grandezza in più. No, è un pochino sovrastimata. Non va bene, non può essere lei l'energia oscura, deve essere per forza qualcos'altro. Ma che cosa altro? Non ne abbiamo la più pallida idea. Siamo mai praticamente giunti alla fine del video, di questa coppia di video. E se siete interessati a sapere come mai sappiamo o riteniamo di essere praticamente certi che l'energia oscura sia il 68% dell'energia totale, che la materia oscura sia un ulteriore 27% e la materia barionica il restante 5%, vi invito ad andare a vedere i video che vi lascio qui nelle schede di Sandro relativi alla radiazione cosmica di fondo a microonde. Perché è da lì che abbiamo tratto queste percentuali. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Come al solito, se vi è piaciuto, pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi do appuntamento a un prossimo video e come al solito siate curiosi. La fisica è là dove non ve l'aspettate.